Intanto direi di cominciare con i ringraziamenti. Ringraziamo la struttura che ci accoglie e che ci accoglie sempre in questo luogo bellissimo che è la biblioteca. Quindi un ringraziamento ai dirigenti di questa biblioteca che ci accorgono per fare queste cose. Un ringraziamento a voi che partecipate a queste iniziative e un ringraziamento al dottor Poli che come sempre ci fa l'onore di venire a Casalecchio per portarci e per raccontarci queste belle cose di Bologna che lui sa raccontare perfettamente. E questo è il primo ringraziamento che facciano al dottor Poli. Ma io li devo fare un secondo. Perché devo fare un secondo ringraziamento? Perché anno scorso, nell'ultima iniziativa che fece, non glielo ho detto, glielo dico adesso, parlando mentre lo accompagnavamo io e Paolo, ci disse che stava facendo una ricerca sulle donne di Bologna. Siamo andati a casa, abbiamo guardato il calendario e l'8 di marzo, che è la festa della donna, capita di venerdì e le nostre iniziative le facciamo al venerdì. Quindi il ringraziamento al dottor Poli è perché ci ha dato l'idea di fare questa iniziativa l'8 di marzo, in cui ci parlerà delle donne di Bologna. Ma non solo. Intorno a questa iniziativa è nato un ante e un post. Perché faremo altre quattro iniziative sulla donna e quindi vedremo la donna sotto l'aspetto artistico, sotto l'aspetto musicale, sotto l'aspetto dei costumi e sotto l'aspetto storico per vedere la sua evoluzione. Quindi vede dottor Poli, tutte le cose programmate per il secondo quadrimestre di quest'altro anno sono merito suo perché ci ha dato l'idea. Quindi un gran grazie al dottor Poli. L'ultima cosa che vi dico è, faccio un ringraziamento a Paolo, il quale ha accettato la presidenza di questa associazione che conduco da 18 anni. Quindi un grazie a Paolo che si assume questo incarico e comunque io resterò nel senso che starò come senatore anziano, come consigliere anziano. E quindi io vi saluto, vi presento Paolo che dal 9 di questo mese, cioè da mercoledì, è il nuovo presidente di questa associazione e passo la parola a lui che vi fa un saluto e vi dice due cose. Bene, diciamo che questo turnover non è stato molto voluto, è stata una richiesta del presidente precedente che come esigenza giusta di ruotare nelle mansioni dopo 18 anni per problemi anche fisici e di altro tipo, quindi giustamente è giusto che ci sia questa rotazione. Quindi abbiamo cambiato il presidente, mio malgrado, e abbiamo cambiato anche la vicepresidente. Per cui io farei un grandissimo ringraziamento, un applauso caloroso a Alessandro Barattini e a Carla Ghizzoni che è la vicepresidente che hanno fatto un'attività bellissima, lodevole su tutti gli aspetti. È stata un'attività, diciamo, ad includere, nel senso che io stesso sono stato preso dentro l'associazione e mi sono trovato benissimo proprio perché c'erano queste persone. Non crediate che loro se ne vadano, loro sono, diciamo, l'anima e il cuore di questa associazione, per cui potete rivolgervi tranquillamente a loro come prima. Cioè, non ci sono problemi. Come? Le mail arrivano sempre a me e io ve le manderò. Sì, sì, io continuerò a fare quello che... Cioè, diciamo che le mansioni non cambiano sostanzialmente. Ecco, io cosa cercherò di fare? Cercherò di mantenere quello che è stato fatto fino adesso. Io non dirò che cercherò di far meglio perché è quasi impossibile. E poi far meglio non ha un gran senso perché se facciamo meglio, dove andiamo a finire? Cioè, non ci stiamo più. E' quello il problema. Allora, io cercherò di fare una cosa, cioè di allargare e consolidare le relazioni che ci sono con i docenti, in campo culturale, con le istituzioni, con il mondo civile. Però, appunto, non potrò consolidare più di tanto perché più di così io credo che se no abbiamo veramente dei problemi. Bene, io, anch'io mi associo a ringraziamento del dottor Poli perché lui oramai è un'istituzione di questa associazione. Cioè, lui è presente in ogni quattrimestre che noi facciamo. Le ringrazio per la generosità, per la qualità, per la simpatia. Diciamo in una parola, per la bolognesità. Non voglio fare questioni di razza, di etnese, però lasciatemelo dire per una volta. E quindi lascio la parola a lui perché è sempre credibile ascoltarlo. Grazie mille. Un applauso, un applauso. Bravi, grazie, grazie, grazie. Grazie e auguri, auguri in bocca al lupo per questa nuova prosecuzione di avventura perché è una prosecuzione. Siete bravi, siete bravi perché fate delle cose importanti, riuscite a far uscire di casa tante persone, che è una cosa bella, specialmente se non c'è la neve. Per i temi che vengono scelti, che sono temi che riguardano il nostro territorio. E c'è bisogno che ci siano associazioni che ancora promuovono questo tipo di cultura che se no viene abbandonata. E' una cultura che abbiamo intorno a noi, ogni giorno che camminiamo, vediamo le cose. Ehi, ma guarda, non c'è più quel negozio, adesso ce n'è un altro. E certe volte quel negozio era l'imprinting di quel territorio, no? Che sono poi quei negozi e quelle realtà che hanno dato il nome. Sono quasi una toponomastica. Dove ci vediamo? Ci vediamo da Zanarini. Tac, uno lo sa già. Una volta dicevano, ci vediamo da Pino. Agnepio. E' questo. Poi con Massimo invece dicevamo, oh, ci vediamo domattina sotto il portico del monte di Bologna. Allora, se quello che è previsto succederà, anziché il sapere della storia, ci saranno i sapori e i saperi del Conad. E allora, uno dice, adesso vado a comprare un po' di clementine. Già che sono qui, entra, in alto c'è Cristo morto, compra le clementine, esce, guarda, e c'è sempre il Cristo morto. Di sopra che non si capisce qualcuno di cosa c'entri. Quindi, vedete, tutto può succedere. E' chiaro che fra vent'anni, il mio nipotino che ne ha otto, difficilmente si stupirà o si scandalizzerà di una cosa di questo tipo. A una serie a brisa, non sapeva mica che c'era. Però, vedete, è compito anche di noi, di chi amministra, eccetera, mantenere la memoria storica dei luoghi. E' come se un domani, Giò saputo, dice, ma perché non facciamo lo stadio in piazza maggiore? E' tutto vuoto, è capito? Ecco, e no, no, la Platia Major è il luogo in cui sono avvenute cose fondamentali della nostra storia. Ecco, insomma, è lodevole quello che fa questa associazione, l'impegno che ci mettono i vostri organizzatori, perché dire dirigenti sembra che prendano degli stipendi, che in questo momento non gli darebbe nessuno, capito? Oppure gli ridarebbero per toglieri come tasse, quindi... Vabbè, allora l'8 di marzo ci vediamo a parlare delle donne, nella storia di Bologna, ovviamente, e cioè andiamo dal suor Angelica a arrivare fino a Lucia Mannucci. Quartetto Cetra, lasciamo fuori, oppure Nila Pizzi, lasciamo fuori la Raffaella Carrà perché è ancora viva, ecco, se dovesse morire nel frattempo. Quindi partiamo dalle primissime donne che hanno lasciato un segno, non nella storia, pensate, nel territorio, perché quella lì è quella che fece il primo conventino, cioè convento, il primo eremo, che poi è diventato San Luca, pian piano. Pensate, pensate queste donne che anziché trovare marito, trovavano un altro marito. E' solo che per tenere lontane dalle tentazioni, per tenerle e tenersi loro stesse, lontano dalle tentazioni di Suduvet, ora vado sulla dove? L'eremo di Ronzano, anche l'eremo di Ronzano l'hanno fondato le donne, così come San Luca. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Invece, questo pomeriggio parliamo di una cosa che io mi meraviglio che sia stata in tanti, perché c'è chissà che due scatole, sentire fare la storia del monte. La storia del monte durerà 15-20 minuti neanche. No, io ne approfitto per fare un'altra cosa, per cercare di far comprendere come la storia del denaro, della finanza, sia la storia dell'uomo, la storia del mondo. Oggi, la parola economia, la parola finanza, sono viste con sospetto. Sono sospetto, le banche, mamma mia, i maledetti. Ecco, io vorrei sfatare un po' queste cose, perché le banche sono state fondamentali e lo sono, nello sviluppo economico. Poi c'è una banca che può andare bene e può andare male, un'altra, no? Esattamente come il negozio di ortofrutta, può andare bene e può chiudere. O esattamente come un'aziendina che fa i bulloni, che diciamo adesso non vanno più i bulloni, perché li facciamo di plastica anziché di metallo. Ecco. E allora si cerca di salvare il salvabile in quei casi. Salvare l'azienda, salvare il personale. Ma in una banca non c'è solamente l'azienda e il personale. Ci sono migliaia e migliaia e migliaia di clienti che hanno lasciato con fiducia i loro quattrini lì. E che se non si interviene, i quattrini non li vedono più. Ecco, vedete, il mondo è fatto così. E da che mondo è mondo? Si può dire da circa 3.000 anni a questa parte, la moneta è esistita come oggetto di scambio. Io ti do un prodotto e io ti do una moneta. Il primo rapporto era io ti do un prodotto e tu mi dai un altro prodotto che mi serve. Ecco, lo scambio in natura di prodotti. Poi, quando uno dice io ti do delle patate e tu mi dai un pollo. Quando lui qui aveva tantissime patate, dice so, ragazzi, non trovo tutti quelli che mi danno il pollo con faghi. Allora le vendo e si inventarono dei tipi di moneta. C'erano delle popolazioni che usavano le conchiglie. Magari popolazioni che erano nell'entroterra, non ho mai visto una conchiglia, e dice, ma questa qui è preziosissima, poi invece andavano a 200 km, ma andare a 200 km all'ora era stare fuori di casa una settimana, capito? Però il denaro ha sempre avuto delle caratteristiche. Come si chiamava in latino, come si diceva in latino, denaro? Pecunia, che viene da pecus. Il capitale, da cosa viene? Da caput, sempre latino. E che cosa vuol dire questo? Che tu sei ricco se hai tanti caput di animali. Se hai dei greggi interi. Quindi anche il capitale era costituito da beni sostanziosi, animali soprattutto, perché gli animali ti davano il latte, potevi fare il formaggio, potevi mangiarti lì, arrosto, cioè c'erano tanti modi. Quindi caput deriva appunto dal numero di bestie che uno aveva. Aveva, così come tante altre monete, invece aveva dei nomi che derivavano dalla loro caratteristica. Il pesos e la peseta era relativa al peso della moneta. Così come il peso della moneta è la lira, lira, libra. Così come il pound, pound vuol dire peso. Quindi anche lì da queste espressioni comprendiamo che la moneta aveva un retroterra di concretezza. Non c'era la banca di emissione dietro, la banca d'Italia, non c'era questo. C'era qualcosa di molto più concreto. Che voleva dire che il controvalore della moneta era un po' misurato sul valore degli animali. degli animali che allora erano, non c'era la protezione degli animali, veramente in quel momento, in quegli anni lì, erano delle vittime, no? Come campa il primo uomo sulla terra? Campa di quello che può prendere dagli alberi, dalle piante e dalla caccia. In tutti i graffiti antichissimi nelle grotte, sai, c'è sempre uno che con una lancia cerca di ammazzare un animale. Perché questo è? Detto questo, però, l'evoluzione della moneta dipende da tante altre cose. Dipende dall'evoluzione dei mercati, cioè dei commerci. Quando c'è commercio, quando c'è produzione di prodotti, allora la gente li va a comprare. Se non ci sono prodotti, allora si fanno gli scambi in natura. Bene, i greci avevano le banche, si chiamava trapeza, trapeza vuol dire tavolo, un tavolino così. E noi non lo chiamavamo banco, la stessa cosa. I romani lo chiamavano argentarius, il banchiere. E oggi in francese denaro, come si dice? Argent. Ecco, vedete, gira e rigira. La storia si presenta sotto facce diverse. Fra un poco vedremo un assegno che è data al Cinquecento, che è conservato nell'archivio del Monte. Ma per dire che anche allora, nei film si vede che i cavalieri, i mercanti, giravano con la borsa qui accanto piena di soldi. Scemi! E' come andare in un quartiere di certe città con la giacca aperta così, capito? Porta via anche il break. Quindi avevano già capito che per fare un affare fra Bologna e Piacenza era meglio una scrittura, un pestino di carta, che non portassi dietro delle monete d'oro o d'argento, perché la moneta aveva valore della misura in cui era realizzata con un metallo prezioso. Le monete da quattro soldi, erano monete che erano talmente sottili che quasi ci vedevi San Luca facendo così, erano piccoline, sottilissime, perché non valevano quasi nulla. Allora dicevo, latini, i greci, i romani, i greci, poi viene il Medioevo, e nel Medioevo la moneta praticamente scompare. Non ci sono, sì, no, le monete ci sono ancora, ma per dire qui da noi non si hanno notizie di monete dai romani fino ad arrivare a dopo l'anno 1000. altri popoli hanno realizzato le loro monete, però il mondo di allora era un mondo fermo, chiuso, dove non c'era progresso, dove c'erano i servizi della gleba, cioè famiglie che per secoli continuavano a essere servizi della gleba volentieri. Sto bene qua, ho la casa, si fa per dire, ho il mio pezzettino di terreno che il padrone mi consente di sfruttare e di considerare mio. Non c'erano prospettive. Era difficile dal basso salire in alto, così come era impossibile, o quasi, dall'alto scendere in basso. Tant'è vero che se un ricco o un nobile aveva delle sventure e cadeva in disgrazia, la società lo aiutava. Non aiutava quello che non aveva niente, aiutava quello che dall'alto era caduto in basso. Perché era un cattivo esempio. Da noi si è chiamata opera, pia, poveri, vergognosi. ma non esisteva mica solo da noi, da noi esisteva anche topo rispetto ad altri. Poi c'è stato un fatto che ha cambiato un po' le sorti dell'economia e dito un po' di tutto. non è che una signora ricca di Bologna dell'anno 1000 non potesse avere un bel vestito particolare. Sì, lo poteva avere. Le andavano a comprare nei paesi orientali. Ma non c'era molto denaro, quindi erano cose sporadiche, limitatissime. avviene invece un fatto che inverte le rotte dei danari e delle merci. Si chiamano, noi le abbiamo chiamate, loro non lo sapevano che si sarebbero chiamate così, le crociate. Quelle danno un po' una spinta enorme perché? Perché ci sono là tante cose che ci interessano. È solo che bisogna andare a prendere. ed ecco che allora è il momento di due realtà. La prima, Venezia, Genova, cioè quelli che hanno un porto e una flotta per andare a prendere merci, due, i soldi. Quindi qualcuno che può anche prestarti dei soldi per andare là. E ti ripresta perché sa che tu vai là poi torni con della merce che venderai l'hai pagata a una, qui la venderai a cento perché è in ebrisa quella. E da lì si innesca un processo economico virtuoso. Ma allora ci voleva però chi finanziasse queste cose qui. Chi finanziasse queste cose qui. E chi sono stati i primi banchieri della storia? Dice, gli ebrei no, non è vero. Gli ebrei, i banchi ebraici che erano tantissimi esistevano. Nella nostra città ne esistevano parecchi, una dozzina almeno. Se andiamo a vedere anche la provincia è una quarantina. Parliamo sempre fra il 200 e il 400. Ma quelli facevano credito su pegno, esattamente come i monti di pietà, facevano credito su pegno al ceto medio. Ecco, al ceto medio. Non ai poveri ma agli artigiani, sarti, ecco. Non certamente al mercante che aveva bisogno di forti finanziamenti perché per andare a prendere la roba là doveva mettere in piedi una nave, una flotta, eccetera, e poi avere i soldi per pagare. E allora saltano fuori i banchieri che sono italiani. I-ta-li-ani. I banchieri italiani hanno in pugno il mondo intero per 150 anni. Dal 1200 al 1350 sono i padroni della finanza mondiale. Anche dopo nel 400 ma molto meno perché molti di loro presero una botta si risollevarono più. E chi erano questi? Come furono chiamati questi? Come furono chiamati questi? Chi no? Beh? Ma che brava signore, che brava. I lombardi, i lombardi. Perché stavano nella Longobardia, cioè da Firenze, dalla Toscana in su. Erano soprattutto piemontesi lombardi, piemontesi lombardi, toscani e qualche bolognese, qualche, qualche bolognese che, cioè qui c'erano dei banchieri importanti, ma che non si buttarono nella mischia come quelli là, come i lombardi. I lombardi andarono in tutto il mondo di allora, in tutto il mondo di allora, dall'est, l'est, dico, Polonia, questi paesi qua, Ciccola, che allora avevano altre denominazioni, l'Inghilterra, che era una monarchia importante, la Francia, tutta l'Europa, tutta l'Europa era piena di banchieri italiani, i lombardi. E ci sono anche lì, vedete, io che credo molto nella toponomastica come memoria del territorio, guai se dovessero cambiare certe denominazioni e peccato che adesso non ci siano più persone come me nella commissione toponomastica che sono stati 25 anni a dire no, Luquena, Spolbrisa, non potete mettere il nome delle vie a Bologna a dei cantanti jazz o dei suonatori jazz, è meglio di inossarti Puvrenka alla Brisa e Nastrae, ecco, perché io credo che ognuno debba avere sul proprio territorio la memoria e allora la memoria c'è dove ha sede la banca nazionale inglese, la banca d'Inghilterra in Lombard Street scusate quel Lombard siamo noi siamo noi italiani Rue de Lombard ad Avignone a Parigi in tante città ci sono ancora per fortuna strade che ricordano la presenza di questi operatori del credito italiani che hanno avuto in mano il mondo dell'epoca prestavano quelli più quelli che sono atti male sono quelli che non hanno capito niente e hanno prestato ai principi ai re alle monarchie i quali i quali dicevano ma è vero che le leggi le faccio io aspetta mo faccio la legge che non do più indietro i soldi ecco e quelli li chiedevano parecchio capito e molti dei nostri andarono a firmare in una città in una città adesso non mi ricordo più che città è della Germania della Germania il ve lo voglio dire perché il padrone di quella città era un bolognese a Colonia nel 1401 uno degli uomini lombardi un lombardo più potente che teneva in piedi tutta la città la controllava si chiamava Simone ed era di Bologna bisognerebbe fare una ricerca per sapere chi era costui ma a Bologna abbiamo avuto dei banchieri noti importanti uno almeno uno un banchiere importante di Bologna dai dai eh chi è sette peggio no io sto parlando di qualche anno fa dai no i Bentivoglio no però ci siamo vicini non i Bentivoglio che sono i signori di Bologna del 400 i Pepoli i Pepoli se no quel palazzo lì chi l'ha fatto Robert Simonaco scusa un paio ci sta Robert Simonaco ma non l'ha fatto lui e i primi signori di Bologna sono rimasti tra Deo Pepoli sono rimasti pochi anni se non ti vuoi usare la peste che viene ricordata da Boccaccio no? quella del 1348 del Camerone se non ti vuoi usare quella peste lui sarebbe stato vivo ancora per tanti anni invece è morto per la peste perché la peste come diceva Donna Bologna è una gran ramazza e non guardi in faccia a nessuno no? quando vedi che era morto Don Rodrigo no? non sta a guardare se era ricco o povero se e diceva quando l'arriva l'arriva diceva quell'altro no beh dunque questa è la storia dei Lombardi però a questo punto i Lombardi insomma perdono dei colpi e nel 400 l'economia che è già lanciata a Bologna la seta sta dominando il mondo in altre città le cose vanno alla grande ogni città poi si specializza nella propria produzione la propria attività a Firenze continuano a fare i banchieri così pure in altre città della Toscana i Bardi e i Peruzzi oh i Bardi sapete quanti dipendenti avevano in Europa anche loro erano lombardi in un certo senso 150 i Peruzzi 300 sapete quante filiali aveva Lorenzo dei Medici i Medici avevano filiali di banca sparsi in Europa e siamo nel 400 inoltrato 20 ecco quando dico che la nostra presenza nell'economia del mondo dell'epoca va avanti oltre 1350 a metà del 300 ce n'era una quantità piccolina anche capito diffusa un po' dovunque successivamente è come dopo la peste chi resiste? quelli che sono robusti e che non muoiono i robusti i Peruzzi i Bardi i Medici eccetera resistono e continuano a essere potenti ed importanti chi va a Firenze ogni tanto guardi i nomi che ci sono sui palazzi eh alla Mandini eccetera sono palazzi dei banchieri così come a Bologna non sono dei banchieri a parte i pepoli ma sono i grandi palazzi dei mercanti di seta è vero? Piazza Santo Stefano come si chiamano quei due palazzi lì? quei due palazzi che ci sono lì c'è la chiesa qui c'è quello con le teste fuori eh? no i Zulani è là no quelli con le teste Bolognini oh non l'ho sentito i Bolognini sono gli inventori del telaio meccanico a energia idraulica e adesso vediamo chi è ancora era Bolognini lo vediamo fra un po' e allora qui i commerci vanno la città cresce economicamente demograficamente nell'arco di un secolo nel 200 passa da 50.000 abitanti insomma si lavora si vende si produce arrivano anche da fuori i cacciati da Firenze dopo la lotta fra Guefi e Ghibellini arrivano qui e fanno la compagnia dei fiorentini ancora oggi c'è l'oratorio dei fiorentini e la chiesa rotonda dei fiorentini che oggi è un negozio di moda o di profumeria quello vicino profumeria vicino a Mondadori no? ecco gli adasegno era tutta roba loro questa qui e loro lavoravano le pelli soprattutto e allora arrivano i banchieri e questa volta sono tutti sostanzialmente ebrei meno dei grossi mercanti bolognesi che non prestavano i soldi alla gente così prestavano ad altri che avevano interessi molto grossi alla fine la figura del mercante diventa anche quella del banchiere si uniscono a Bologna e così mercanti e banchieri sono la stessa sono la stessa la stessa persona perché il mercante dice allora io ti vendo una partita di seta enorme allora tu dov'è che stai? ad Ancona allora uno rischio della nave che va da Ravenna ad Ancona i rischi si pagano il rischio è un prezzo che sta nel credito e poi dunque però quando arriva là arriverà fra tre mesi fra tre mesi costa di più quindi io ti faccio un prezzo ti presto dei danari per questa operazione che tenga conto del rischio e dell'inflazione li chiami interessi? no no interessi perché con gli interessi si va all'inferno si diventa usurai che oggi usurai una parolaccia ma usurai viene da uso del prodotto un uso prolungato un uso particolare si dice anche che questo vestito si è usurato a forza di portarlo eh? non è mica una cattiveria è che l'ha portato troppo quindi è diventato una parolaccia ma chi l'ha fatta diventare una parolaccia? e lì arriviamo al monte dai i francescani la chiesa anzitutto aveva scritto nel Deuteronomio aveva scritto tu non presterai a usura a un tuo fratello ma al cugino sì però ma no ma fratello vuol dire vuol dire fratello nel senso del tuo paese a uno straniero allora sì eh ragazzi diciamo eh i furbi si sono sempre stati nel nuovo testamento invece dice mutum date nil indesperantes prestate denaro e non sperate altro se non averlo indietro e già questo è cioè nil indes cioè ma non sperate di averne di più e questa è l'altra frase che insieme a pecunia non parit pecuniam il denaro non produce denaro ecco è anche pecunia non olet questo questo lo dicevano i romani però lo dicevano i romani sapete che ci sono molte versioni sul pecunia non olet la versione più strampalata è quella che dice che fu appunto Vespasiano a mettere la tassa su chi andava a fare i suoi bisogni da cui divennero i Vespasiani divennero gli orinatoi pubblici vabbè ecco allora dicevo sono gli ebrei quelli che comandano un po' il credito e come vengono ritratti ci siamo nei secoli dal cinquecento in avanti brutti brutti possibilmente con un cliché ebraico il naso aguzzo cioè l'ebreo era visto così io qui ne ho tolte alcuni che sono allucinanti cioè proprio vengono deformati ecco comunque questa qui è una questa invece è una scena di prestito vedete c'è quello che presta e quello che scrive anzi no è una scena di pegno scusate di pegno perché questo dà qualcosa che viene messo dove è che va c'è ora il puntatore hanno lo brise non è possibile eccolo qua ecco questo vedete lì ci sono altri oggetti preziosi eh addirittura una spada viene impegnata altre scene questo non è ebreo questi sì invece questo è famosissimo eh è fiammingo questo dipinto marito e moglie che esaminano esaminano oggetti preziosi eh questa questa immagine qui sapete che è stata è stata taroccata taroccata no questa qui eh sette otto anni fa al posto di lui c'era Mario Monti e al posto di lei c'era Angela Merkel sì sì io una volta ho andato a fare la conferenza non me ne ero accorto avevo preso la foto taroccata vabbè dico ma come ma guarda come insomiglia questa questa qui alla Merkel vabbè poi ho capito che era Monti perché aveva gli occhiali capito oggi vi ho presentato quella giusta anche questi so è il solito cliché anche qui vedete vedete che il volto chiaramente con con caratteri ebraici qui i danari eh d'oro e d'argento mai di carta eh la carta arriva molto dopo altre due vedete anche qui e sono sempre dipinti molto eleganti eh molto eleganti vuol dire che sono diventati ricchi anche qui la scena analoga qui ci sono dei gran soldi la moglie vedete che anche una volta era la moglie che teniva dietro i conti eh e perché no chi è no perché anche in quell'altro chi è che ha il libro il librone lui conta e lei scrive ecco anche qui vedete il ghigno qui questa qui potrebbe essere ecco una donna non lo so no boh no eh quindi fanno tutti brutti non sa mai no perché c'ha un affarino lì un anellino lì vabbè diciamo che questa è un'altra scena questa più recente un dipinto ottocentesco molto bello qui si vede il qui non lo chiamerei più banco è uno strozzino vero e proprio e qui c'è lei che chiede chiede qualcosa chiede pietà ecco qui c'è un'altra scena anche qui vedete chi è che tiene dietro i conti eccola lì ecco lui lui conta il cane lì che aspetta altra scena pure questa di impegnagione ecco vedete io non so se questa sia una donna ma forse sì anche qui che scrive qui impegna qualche cosa qui fanno la la misurazione la valutazione eccetera e qui c'è un altro che è brutta però anche questa è bella perché anche qui c'è invece una donna che va a impegnare qualcosa questo è un banco di impegno privato e questo qui viene visto con tanti oggetti preziosi lei impegna una coperta un tessuto eccetera e lui ricchissimo con tanti quattrini e adesso arriviamo al monte allora la predicazione francescana dei minori osservanti i minori osservanti a Bologna sono l'osservanza una volta c'era la chiesa giù all'inizio di via San Mamolo e poi c'è l'Antoniano questi sono gli osservanti gli altri sono i conventuali quelli che sono più scuri che sono quelli che stanno in San Francesco quelli sono i conventuali più studiosi eccetera questi invece erano quelli che andavano in giro ed erano predicatori soprattutto minori osservanti allora cosa succede succede che la chiesa interviene più di una volta sulle vicende ovviamente umane quando esplode Bologna come ricchezza come quando passa da 20 a 50 mila abitanti eccetera guarda caso arriva 8 secoli fa esattamente questo è l'anniversario arriva Domenico San Domenico e qualche anno dopo arriverà Francesco San Francesco e poi arriveranno altri fraticelli e questi qui sono tutti Domenico e Francesco personaggi che hanno lasciato la loro famiglia ricca magari di banchieri oltre che di mercanti eccetera decidendo la via della povertà ecco quindi erano emblematici e loro facevano tanti seguaci dovunque andassero a Bologna quando arrivò Domenico aveva già un gruppo di seguaci a partire da un frate che si chiama Reginaldo che lo accolsero e lui parlava un'altra lingua spagnolo Domenico di Guzman lo accolsero in maniera entusiastica così come accolsero Francesco pochi anni dopo si pensò di costruire la chiesa di San Francesco che è quella che oggi si chiama San Francesco quella grande che se l'avesse vista San Francesco sarebbe incazzato mica poco perché lui era per la povertà quella è una chiesa che è fra le più ricche più belle addirittura ha due campanili e basteva o e tu quindi c'era il contrappeso da una parte il corpo che aveva dei benefici dall'altra l'anima che doveva essere recuperata ecco che la predicazione ha questo senso i franciscani minore e servanti predicano per affinché la gente si sposi e gli fa dei discorsi ma pensa pensa un uomo solo un poverino che vive in mezzo alle schifezze che non lava niente che mangia sempre nello stesso piatto che magari quel piatto lì glielo lava il cane con la lingua ecco invece se c'è la donna ecco fagli fare tutti quei discorsi era era così era così magrolino meno alto di me con una bisaccia qui una borsa qua uno zainetto insomma una bisaccia qui piena di discorsi già pronti uno era questo l'altro era sul gioco delle carte il gioco delle carte vi porterà alla perdizione perché tanto perderete e quando perdete cosa fate? non perdete dei soldi vedete l'anima perché bestemmiate e la bestemmia vuole dire uccidere l'anima no io adesso le dico un anno fa diceva ecco e poi non solo diventate iracondi perché avete perso tornate a casa e cosa fate a casa? picchiate la moglie e allora arrivò qui a Bologna intorno a 1430 40 nella che non è piazza ma chiamiamo così per capire in piazza Santo Stefano chiamò tutti i giocatori gente che aveva mazzi di carte e gli fece sto discorso cioè praticamente tutti sentivano già bruciare le fiamme dell'inferno sì 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 e buttarono tutte le carte via e fu il falò delle carte da gioco le carte da gioco le facevano delle persone una alla volta ovviamente non c'era la stamperia erano dei piccoli capolavori io ne ho una casa ho un gioiello mi cercano in cornicio vabbè dopo passato la fiammata così i fabbricanti di carte andarono da lui e gli disse ma adesso non è te con fagna sapevamo fare bene quella cosa lì e c'è rovinato eh no adesso vi dico io come camperete d'ora in poi ecco vedete questo voi rifatelo disegnate questo qui disegnatene tanti e ne venderete tantissime e inventò il suo logo questo è il logo di San Bernardino da Siena questo è da Siena dopo c'è quello da Feltre e un logo che lo portò addirittura davanti al davanti agli inquisitori perché cosa vuol dire quelle IHS con i raggi che voi vedete sotto il voltone del potestante la testa lì in mezzo c'è questo logo e anche in tante chiese ovviamente IESUS IH OMINUM ES SALVATUR Gesù Salvatore degli uomini e l'inquisitori dice come Gesù no è la Trinità tu hai sposato Gesù e basta hai dimenticato gli ETERDU e lo processarono poi dopo lo prosciolsero e lui ecco comunque questi qui fecero vendettero tanti di questi IHS ma finita 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 la platea dell'IHS dice vabbè scufagli ripresero per fare le carte a gioco appena Bernardino lasciò Bologna si rivisero a fare le carte adesso lo scritto che uscirà o è già uscito uno dei miei articoletti quotidiani sul Carlino sul gioco d'azzardo a Bologna no perché anche qui non c'è mica niente nuovo era diffusissimo in gioco d'azzardo dei dadi allora no Zara si chiamava azzardo azzara Zara e diciamo il sindaco dell'epoca ha sentito il cardinale anzi il vescovo perché il cardinale non c'era ancora li vise fuori fuori legge chi verrà preso a giocare in tutti i buchi erano le cazughevano allora diciamo aspetta mo diventa una attività comunale e aprì le baratterie le baratterie erano i luoghi in cui si poteva giocare e come tanto per fare un esempio che però ci sta le case chiuse ecco cioè lì erano le case chiuse del gioco solo che i barattieri quelli che gestivano pagavano il dazio delle baratterie ecco ed è durato per tantissimo tempo poi fu vietato nelle osterie ma entrò nelle case nobiliari e nei salotti dove giocavano a questo gioco e ad altri ancora e allora lui predicò poi contro l'usura ecco il suo terzo cavallo di battaglia fu l'usura e allora ecco cosa succedeva succedeva che tutti i banchi ebraici venivano visti e puntati come ma più che peccatori perché loro erano ebrei come li chiamavano insomma distruggevano i cristiani in altre parole insomma corrompitori è corruttori dei cristiani corruttori dei cristiani però lui è all'inizio nel terzo ecco tre anni e trent'anni nel quattrocento nel 1462 si aprirà il primo monte di pietà nel frattempo questo qui questo arriva dopo aspetta questo arriva dopo eccolo qua nel 1462 questo frate milanese Michele Carcano da Milano Mediolanensis Michele Carcano ecco che non conosce nessuno non è stimato poverino c'è questa stata qui in un paesino ignoto del milanese eppure ha aperto un sacco di monti lui passava le sue giornate da da Ancona da Ancona Perugia in su ad aprire monti loro di Bologna ancora Perugia Milano e come lo aprì il monte ecco venne a predicare qui in piazza contro l'usura eccetera ma lui non predicò contro l'usura e basta propose un'alternativa disse io propongo che si aprano dei monti di pietà cioè dei luoghi in cui le persone povere possano avere un prestito a tasso zero ma come si fa niente si fa si fa quello che fanno a Teleton si telefonate un euro a testa cittadini bolognesi e con quello che si mette insieme no in realtà si fa che io adesso alla fine di questa predica passo da tutti e chiedo un obolo per aprire il monte e tiro su 484 lire 13 centesimi e due bottoni e allora social all'epoca i bottoni valevano più che i centesimi allora non è così davvero predicò e con questi fondi cominciamo ovviamente si apre in un locale che ci viene dato gratis ci lavora Massimo che non vuole essere pagato tanto le belle imprensiane esattamente come il vostro presidente che quando presenterà di 740 non c'è niente ma come lei non è presidente è andata male per il fisco e fu scelto allora fu dato un locale più o meno dove oggi c'è Zanarini e si offrì un contabile che era Giovanni Bolognini che si firma aspetta ora che andiamo a vedere dopo arriviamo a quell'altro beh dov'è il primo documento eccolo qua questa è la prima pagina del 23 aprile 1473 è la pagina in cui il Bolognini e il Giovanni Bolognini dice oggi inizio questo libro contabile che chiamerò giornale di contabilità perché inizia a operare il monte di pietà di Bologna lui era un mercante mercante di seta discendente del primo via Castellata del primo mulino meccanico filatoio meccanico idraulico di Bologna che divennero ricchissimi ricchissimi perché i Bolognini il suo padre no il suo fratello fece i palazzi di Santo Stefano e fece la cappella Bolognini in San Petronio è la cappella più ricca più contestata perché c'è Maometto ecco e allora si apre e solamente nel mese di luglio di luglio dunque in aprile apri in aprile si avvia io ho i dati di luglio che ve lo siete da qualche parte e ecco qui no va beh comunque sono circa 450 prestiti che vengono fatti ci volevano più soldi e furono fatte altre raccolte di danaro onde poter fare prestiti a chi si facevano i prestiti questo è un monte di pietà sacer sacro a quell'immagine che abbiamo visto che adesso vedremo del Cristo morto si fa ai poveri non si fa chi ha già dei soldi e vuole fare degli altri si fa a quello che faceva il sarto e con le forbici in un momento di distrazione si è tagliato un dito anziché tagliare la stoffa si fa al falegname che in un momento di distrazione si è tagliato qualcosa e non può più lavorare e come si chiamano questi? il monte fa il presito ai pauperes ai poveri eh no però attenzione aggiunge pauperes pinguiores i poveri un po' meno poveri un po' più ricchi perché il pauper eh pauper viene da in latino paucus pauca pauco vero? e paucus vuol dire poco quindi il povero è colui che ha poco non colui che non ha niente quelli sono i derelitti della società ma sono gli ultimi che vengono assistiti tutti voi da un convento voi dai ricchi che per tenersi la coscienza a posto distribuiscono soldi ai poveri voi dal comune che ogni tanto fa la distribuzione di prodotti alimentari per quelli che non riescono a mangiare ma i pauperes pinguiores sono quelli che qualcosa ce l'hanno poco ma ce l'hanno e quindi possono portarlo impegno hanno il cappotto hanno le scarpe la moglie ha dei guanti dei fazzoletti il 50% dei pegni fatti in questo libro qua che l'ha fatto pubblicare tutto tutto è pubblicato quindi pegno per pegno si sa chi erano quanto gli ha dato eccetera sono tessuti sono abbigliamento tessuti eccetera eccetera e lì si dava il 50% del valore di perizia poi c'erano dei preziosi si dava il 75% dei valori di perizia anche il povero ha la moglie eccetera un oggettino prezioso uno potrebbe potrebbe essere anche l'anulus l'anello di matrimonio perché si usava l'anulus e dunque potrebbe impegnare quello e vedete in questa logica che spiega quello di prima Bernardino da Feltre andiamo a rivedere il Bernardino da Feltre in questa logica qua eccolo qua in questa logica ancora succede che io a luglio decido di andare al mare però non ho i soldi allora cosa faccio vado al monte di pietà e gli do il cappotto tanto è vero che le stagioni però generalmente non e porto la mia capparella preziosissima perché non so il quale l'è la porto al monte vale un sacco di soldi la capparella vale 4-5 mila euro di oggi non vale ecco allora anche perché durava due o tre secoli glielo prendono e vedono Marco Poli che entra al monte lì con la capparella sul braccio esce con le tasche piene e senza capparella poi dopo passano dei mesi e arriviamo a ottobre a ottobre si vede Marco Poli che va così va al monte paga poi esce con la capparella all'osso qual è il significato che chi lo vede o quello lì è una persona seria è uno che ha preso un impegno e l'ha onorato fino in fondo ha fatto un sacrificio ma si è fatto poi un mazzo così per lavorare guadagnare e riscattare come si può dire il pegno ecco allora il valore morale anche di Coran Popor di fronte alla società del prestito che va a buon fine in tutti i sensi cioè che lo ottieni e che restituisci diventi nella società persona stimata uno che fa fronte onora i propri impegni inizialmente il monte diciamo così non gode proprio delle simpatie del comune che in quel momento erano i ventivoglio 1473 22 di aprile la fondazione i quali dicono ok va benissimo aprite pure fate pure però i ventivoglio erano più legati a banchieri privati e a qualche banco ebraico che stava nella zona di Santo Stefano più o meno all'angolo con Vicolo Pepoli lì avevano sede dei importanti banchieri ebraici ebrei il monte è costretto a chiudere chiude dopo un anno e poco più poi dopo passano tanti anni si deve aspettare il 1504 quindi passano 25 30 anni circa una trentina d'anni arriva qui un altro frate Bartolomeo Milvio da Novara e anche lui predica questa volta gli arrivano un sacco di soldi le associazioni di arti e mestieri dei privati importanti eccetera i quali hanno capito che il monte può essere importante ma non perché fa concorrenza ai banchi ebraici ma perché è stata la parte di quella fascia fetta di popolazione attiva dinamica che produce e che può avere dei problemi di credito di tanto in tanto il monte riapre e pensate che è conservato l'abbiamo visto la prima pagina del 1473 è stato cucito quello che riprende nel 1504 per dire è sempre lo stesso monte e lì si continua a fare i prestiti il monte va benissimo cambierà delle sedi nell'arco di breve tempo intanto aspetta che allora ecco qui vedete i monti diffusi da Michele Carcano Benadino da Feltre in su guardate e vedete che c'è un dato anche qui c'è un dato eh vedete che al sud non ce n'è manco uno ce n'è uno là sì e questo vedete anche questo ha un significato è un significato che non c'è mica sono due culture diverse sono due culture differenti ecco e guardate che i monti di pietà quello dicono degli storici importanti Jacques Le Goff eccetera hanno dato un imprinting su queste terre Marche Abruzzo Lombardia Veneto Emilia Romagna Toscana hanno dato un imprinting che ha lasciato qualcosa qui allora dunque andiamo ancora avanti il monte va bene e apre delle filiali a Bologna e ne aprirà anche eh della provincia di Bologna Budrio San Giovanni in Persiceto Castel Bolognese Castel San Pietro e qui ecco la eccola qua la prima filiale che apre a Bologna si chiama Monte di San Bartolomeo perché perché sta lì dove c'è la chiesa di San Bartolomeo allora se voi avete presente la chiesa di San Bartolomeo ecco aspetta eh dov'è che l'ho messo il coso qua allora se avete presente la chiesa di San Bartolomeo questa è strada maggiore qui portico verso le torri eh vero che c'è ecco le due torri sono qua ecco portico è stata maggiore qui si entrava al monte qui si entrava al monte di San Bartolomeo ecco e aveva degli uffici eh perché perché a un certo momento avevano troppa roba il problema del monte non era era anche quello di avere i soldi per finanziare ma era quello di avere dei luoghi sicuri in cui mettere i pegni perché lei mi porta il pegno la sciarpa io gli do 50% del valore mi portano via la sciarpa no lei dice no la sciarpa scusi e quindi io ci rimetto due volte quello che ho prestato e quello che devo restituire a lei perché ma portavi l'oggetto è vero è la ragione per cui il monte è stato operare quando Napoleone gli porta via tutti i pegni d'oro e non d'oro ecco dunque c'era questo problema solo che più gente c'è che va a fare le operazioni e più ci vorrebbe del personale allora dopo il 1504 con l'aumento delle operazioni l'aumento delle merci dei prodotti che vengono impegnati il problema si pone come facciamo ad andare avanti senza chiedere un po' di interessi ma l'interesse non era usura ecco e allora lì ci vuole un papa che dice Leone X guarda per caso assiemeva era dei dei medici si intendeva di banche quindi che dice si in effetti un aliquid modicum un piccolo per far fronte a che cosa esclusivamente alle spese del personale perché Bernardino da Feltre quello di prima non il primo quello di Sieno no quello da Feltre che è beato l'altro è santo disse nel mio convento e quindi diciamo noi abbiamo dei volontari che seguono l'orto seguono la vigna eccetera e quindi noi mangiamo anche perché ci sono questi volontari ogni tanto si ammalano oppure hanno la mamma che sta poco bene il fratello che si è rotto una gamba il bimbo che deve crescere e non vengono più a coltivare l'orto e neanche la vigna e noi facciamo la dieta e allora dice meglio avere persone pagate che lavorano che non persone volontarie che non si sa sulle quali non si può contare e allora ecco che anche i dipendenti del monte pian piano verranno pagati qualcosa a partire dal massaro che è la definizione l'espressione che indica il direttore della filiale il massaro dunque c'è questa evoluzione interessi che viaggiano fra il 3 e il 5% gli interessi dei banchieri cristiani quelli che insomma sotto banco facciamo pagare interessi e dei banchieri ebraici sono interessi che viaggiano dal 10 al 50% quindi però il monte non per esempio al nipote del bolognini che ha metto su un telaio non poteva fare credito no perché quella è un'azienda io posso fare e poi lui non è un povero io posso fare credito solo alla gente comune capite questo ovviamente lascia il campo libero a tutti gli altri banchieri ebrei e non ebrei quindi il monte non costituisce una concorrenza quindi le prediche del primo Bernardino che dava addosso agli ebrei eccetera sono propaganda pura nel senso che si sapeva benissimo che i monti non avevano oscurato o decurtato gli interessi dei banchieri privati perché era un'altra attività è come dire andare in bicicletta o andare in maserati insomma sono due cose estremamente differenti allora vediamo poi dopo arriverà il momento in cui il monte apre un'altra sede dove adesso c'è il museo civico archeologico quindi accanto all'ospedale della morte qui c'era l'ospedale della morte e il monte qui questo è un bellissimo acquerello qui c'è una processione no? e qui c'è un'altra attività ecco allora qui c'è il monte di Bologna unito a San Pietro alla cattedrale da un unico portico sarà Papa Lambertini a abbattere questa facciata abbattere il portico avanzare di una cappella la cattedrale di San Pietro per cui il portico si interrompe qui si interrompe qui e ancora oggi è più arretrato rispetto alla facciata di San Pietro facendo così Papa Lambertini ha migliorato la chiesa ma ha ucciso la vista della chiesa perché chiudendo la piazza questa si chiama piazza San Pietro chiudendo la piazza ancora oggi se tu vuoi vedere tutto a San Pietro ti storgi il colpo come fai a me è infotografabile per dire ecco e chi sono tutte queste qui che escono sapete chi sono sono le zitelle le zitelle non ne parliamo l'otto di marzo sono le zitelle cioè le donne che cercano marito e che essendo povere non hanno la dote che era obbligatoria il monte aveva dei lasciti o delle donazioni di fondi appositamente per formare doti e le fanciulle vergine zitelle e zitelle e come no 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 lo erano ecomo e allora il monte ogni a seconda del testamento eccetera ogni tanto cercava di mettere insieme tutte queste cose diceva adesso facciamo l'imborsazione e l'estrazione sembrava il lotto la tombola delle doti per le fanciulle e loro venivano lì venivano estratte ed erano tutte doti che oggi sarebbero intorno ai 15-20 mila euro tali da poter mettere su famiglia insomma qualcosa ecco questa è la processione delle fanciulle quella là dietro le zitelle dunque gli danno 200 doti all'anno il monte ha poi c'era anche altri c'era il monte del matrimonio c'era il baraccano altre istituzioni che davano qui ne abbiamo già parlato però ecco loro non c'erano abbiamo parlato delle doti il monte avrà fatto sposare qualche migliaio di fanciulle con le sue doti che esistono ancora oggi si chiamano non le zitelle le opere pie dotali dotali esistono ancora esistono ancora solo che io c'ero anche Massimo c'era solo che hanno aburrito la dote questo il codice civile ne è più l'hanno aburrito nel 73 con il nuovo codice civile della famiglia quindi io mi sono posato prima mi hanno fregato io non lo sapevo non lo sapevo e quindi siamo rimasti senza 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 questo non si può più allora è stato cambiato lo statuto e questi fondi che ancora poca roba esistono fate conto ero cos'è un 20.000 euro l'anno insomma li destinammo ai minori in difficoltà ai bambini ancora oggi le opere più dotali residue sono gestite dalla fondazione del monte e possiedono 8 appartamenti da cui derivano derivano si fa per dire insomma da cui si incassa qualche cosa ecco bene allora questo l'abbiamo visto andiamo più in fretta se no non vi faccio più andare via questo l'abbiamo visto eccolo qui adesso vedete l'arretramento del monte rispetto rispetto alla cattedrale la cattedrale la piazza non c'è più la piazza non c'è più c'è il baglioni vale a dire il seminario voluto da Papa Lambertini dal Cardinal Lambertini il monte è là dietro qui c'è un pezzettino di strada che poi si ferma lì si ferma all'altezza di come si chiama la terza via che c'è lì insomma vabbè si no come si chiama Marsala via Marsala via Marsala ecco quando fessero l'indipendenza buttarono giù tutto quanto e aprirono tutto buttarono giù questo questo e aprirono la grande via che fu realizzata sì in 15 anni però furono espropriati 70 70 proprietari poi allora c'era già la possibilità di fare ricorso quindi hanno fatto prestissimo 15 anni a fare la via indipendenza bene questo l'abbiamo visto ecco guardate anche questo questo perché lo dico subito verrà comprato dal monte e la proprietà del monte fino al 1860 70 questo qui ecco se voi guardate è un po' lo stesso stile che ha il monte di Bologna ecco tutta questa documentazione è qua raccolta non qua è questo qui è un armadio ce ne sono tantissimi non si è perso nulla dal 1473 ecco sono tutti libri di contabilità questi questi di altro tipo questo di altro tipo e questi invece di contabilità quotidiana sono tutte risme che vengono poi cucite assieme su una carta fatta con gli stracci fatta insomma come quindi non si è rovinata anche perché non ha preso umidità non ha preso acqua però era carta vera tutto quanto è stato l'archivio è stato tutto catalogato in parte qualcosa informatizzato sempre dal sottoscritto devo dire è un mio vanto quando ero direttore della fondazione ecco guardate come sono fatti alla fine veniva dipinta la pietà fra due angeli Cristo risotto fra due angeli su ciascuno di queste si chiamano vacchette perché la pelle è fuori ecco guardate che cosa sono queste cose io quando ero direttore della fondazione sono venute 3.000 4.000 persone a vedere l'archivio non dico altro però su quello che è successo dopo e questo qui bisogna fare una richiesta si può vedere e questo qui è il primo assegno bancario che c'è al monte di pietà ecco c'è praticamente un ordine e un ordine è evidente che questo potrebbe succedere perché ma perché i medici i bardi i peruzzi avevano tante filiali allora un commerciante di Bologna dice allora io ti devo pagare queste cose tu sei di Piacenza bene vai a Piacenza da questo qui questo è l'ordine che gli da e lì ci sarà il banchiere tra dei tali il banco tra dei tali o il tizio mio corrispondente che ti paga e viceversa quindi voglio dire è del tutto evidente che adesso te prendi il telefonino lo appoggi lì c'è la cartina magnetica c'è piena di cartini che ormai ti pesano più le cartine che il resto ecco che alla fine si socia come sono ricco ne ho 5 o 6 perché ti ormai te le danno tutte le cartine anche se vai al bar però il concetto del fatto che il passaggio di denaro può essere virtuale e non materiale l'avevano già lo scoprirono i templari questo furono loro a inventare l'assegno ordine di pagamento è un ordine di pagamento io andavo con questo pezzettino di cartice oh questo c'era un certo bollo c'era tutto eccetera c'erano dei segni che il corrispondente doveva riconoscere come certi no? sarebbe il pin è così è così cioè oh qui non hanno fatto altro adesso con questo grandissimo progresso tecnologico di mettere diciamo così in via informatica tecnologicamente avanzata quelli che hanno dei concetti il concetto è vecchio come il mondo se vado in giro con i soldi me li rubano e poi posso mai portarne tanti per delle grosse operazioni qui si parlava di balle di seta che andavano via o di canapa per fare le vele alla flotta di Venezia cioè andiamo avanti e questa è l'iconografia dei monti i monti ecco perché c'è sempre Cristo morto e questa qui è una domanda che nessuno si fa ma perché è l'espressione della povertà chi è che ha meno di lui che non ha nemmeno la vita ecco cosa significa il pauper non ci sono altre ragioni questo qui è un dipinto di Giovanni Francesco Spini che sta dentro al monte di Via Indipendenza ingresso secondario quello dietro quello dal cortile quindi quando andrete a comprare i mandarini al coro non so se ci sarà ancora questo invece l'ha fatto il grande secondo me il più grande scultore non bello da dire di pomodoro eccetera ma per me è Cleto Tomba il più grande scultore del novecento bolognese Caritas et Vigilanzia è il suo questo è di terracotta e da qui hanno fatto anche delle monete hanno fatto delle altre cose è bellissima questa sua opera questo invece è un vecchissimo dipinto ampiamente rimaneggiato da gente che non sapeva dipingere e comunque anche qui c'è una pietà molto strana perché vedete che non è una pietà questa è un Cristo morto con la Madonna e Giuseppe forse Giuseppe a meno che non sia un santo e qui però c'è Bernardino e questa è la parte più importante qui c'è Bernardino da Siena lì ecco ma vedete quei soldi lì cosa formano un monte cosa vuol dire la parola monte mons vuol dire accumulazione di risorse destinate a un certo scopo quale il pegno il prestito se dico invece monte dei paschi a cosa è destinato non fate ironia però a cosa a cosa è destinato il monte eh ai pascoli bravo oh ai pascoli della Maremma cioè a diciamo così finanziare attività legate a e come e come da noi arriverà ma molto dopo il monte della seta e della canapa monte dei paschi ecco perché quando ci legge la più antica banca del mondo è una balla una balla il monte dei paschi come monte che fa prestito su pegno inizia nel 1603 allora finanziava i pascoli Cleo Netterquale noi finanziavamo il sarto l'imbianchino il il fabbro eccetera è un'altra cosa ma non lo dico io lo dico gli studiosi di Siena che appena l'hanno detto sono stati trovati il giorno dopo tutti quanti va bene comunque qui vedete è Bernardino col suo logo IHS lo vedete lì e il mons eccolo lì accumulazione di risorse in questo caso danaro per quello scopo eccolo qui questo qui è quando andremo a comprare i mandarini sempre lì al Conal passeremo sotto questo bellissimo complesso che è una pietà diversa dalle altre vedete qui Cristo è sorretto non è deposto non è come alla vita o in San Pietro o in San Petronio dove ci sono i Cristi distesi ecco per me è bellissimo questo gruppo pensate che è stato ristrutturato e rimesso insieme perché adesso non la faccio lunga comunque hanno spostato è stata spostata alla porta d'ingresso prima era più verso vicolo via delle donzelle poi è stata messa in mezzo quando fu fatta l'operazione San Pietro che è avanzata il monte è arretrato e questa qui è caduta l'hanno ritirata su rimessa tutta a posto e qui certamente che ogni anno andrebbe dato in carico a uno che sa pulire queste cose non una filippina uno che va su e lo pulisce come Dio comanda perché ripeto così non ce ne sono di pietà così ecco questa è un'altra pietà molto bella che era sopra il cammino della sala dei presidenti e anche qui è Cristo che esce dalla tomba dall'avello vedete sorretto da due angeli molto bello scuola lontanamente Guidoreni pensate vi ricordate che una volta lo dico al presidente che alla mia età quando c'era qualcosa che la banca voleva dirti ti mandava la cartolina la signoria vostra è invitata a presentarsi allo sportello numero tal dei tali del monte di via tal dei tali per informazioni che la riguardano voleva dire che era andato in rosso guardate vostra è invitata al sacro monte di pietà per affari del detto a di a ore in continente subito questa era la cartolina di anche qui vedete adesso ti telefonano oppure ti chiudono il conto direttamente però ecco questa è un'allegoria dei monti di pietà c'è Cristo lassù in alto che veglia su questi che vedete che fanno i pegni questi qui che portano la loro roba c'è chi porta guardate questo c'è un filatoio vedete questa della roba qua questo sembra che abbia una collana questo ha un secchio vedete e lì fanno questo qui valuta eccetera la scrivono e lì c'è quello che li mette in magazzino è bellissima questa immagine perché ti dà la dinamica altra cosa tutti dipendenti del monte e questo mi sarebbe bello se ci fosse anche oggi dovrebbero essere vestiti allo stesso modo perché quando sei per strada devi essere riconosciuto solo che se non ti eri comportato bene ti correvo ti correvo dietro col bastone comunque l'unica volta che al monte hanno fatto una operazione di tutti uguali l'hanno fatta per le donne l'hanno fatta per le donne a un certo momento c'è un direttore nuovo anche e gli impose a tutti una divisa fatta da una sarta di grido eccetera azzurrina azzurra chiara e da quel momento il monte la carta era azzurra era tutto azzurro e generalmente la sarta che gli faceva te l'ha fatta anche a te è vero ti ha fatto il vestito sì ecco generalmente la sarta aveva il suggerimento del direttore di tenere corte corte sempre sopra il ginocchio no? compresa la direttrice di sala che era la receptionist che poi guarda Carlo si è sposato con un cliente molto ricco apprezzato va bene ecco anche qui vedete qui ti fa vedere un'altra cosa fa vedere che il monte di pietà è come un grande alveare dove tutti lavorano per cercare vedete per cercare di qui sono dei frati eccetera per cercare di fare del bene alla gente in generale e poi dai che abbiamo quello definito poi il monte fece due o tre operazioni la prima che fece fu quella di creare due monti specializzati monte della seta e monte della canapa questo avvenne nel 1698 rivoluzione il monte non poteva finanziare l'industria della seta e della canapa però alla fine del seicento c'erano già degli scricchioli in questi due settori perché Venezia aveva deciso di fare la propria azienda il proprio canapificio per le vele eccetera e la seta i segreti e la seta bolognese era diventata i segreti pulcinella si erano diffusi nel nord Italia mano d'opera meno cara della nostra e poi anche all'estero quindi si vendeva di meno allora siccome alla fine dei conti erano circa 25.000 i dipendenti dei due settori è chiaro che bisognava salvaguardare l'occupazione non c'era la cassa integrazione e allora cosa succede che chiedono al Papa e il Papa finalmente si va bene potete fare presito per canapa e seta ma con lo stesso principio ed è un'invenzione si chiama anticipazione su merci è un'invenzione di tecnica bancaria che fu fatta nel 1698 e che ancora oggi si fa e cioè cosa significa io ti porto seta grezza o canapa grezza per un valore di 100.000 euro tu me la stimi 60.000 mi dai 60.000 euro e io posso andare avanti poi in un certo momento però trovo da vendere un po' di quella seta o di quella canapa lì allora dico però mi si vuole quanta vale 20.000 euro dammi 20.000 euro cala il suo debito e io mi prendo i 20.000 euro di seta poi ne ho bisogno di un'altra dammi anche questa altra quanto vale 30.000 alla fine io mi riscatto la mia seta data impegno ma intanto ho potuto superare un momento difficile ecco io ho pubblicato anche nel libro sulle acque che abbiamo presentato anche qua un saggio su questo e poi l'ho scritto anche altrove insomma ha salvato per 60-70 anni l'industria della canapa e della seta poi dopo insomma quelli hanno svivacchiato e tutto poi è finito con Napoleone quindi canapa e sete il monte della canapa era il monte della sete intanto ebbe più sedi finché non gli fecero come sede quella che abbiamo visto prima angolo via altabella via indipendenza c'era il banco di Sicilia il banco di sì di Sicilia c'era lì adesso c'è Walt Disney capito? lo dico perché noi nonni vogliamo sapere dove è Walt Disney possiamo non sapere dove è il dancing tal dei tali ma Walt Disney dobbiamo saperlo ecco quello era il monte della seta della canapa scusate no era il monte della seta il monte della seta il monte e andiamo a vedere se lo riconoscete ecco qua poi fece anche i magazzini raccordati qui dentro c'erano automobili parmigiano reggiano prosciutto di tutto che funzionavano esattamente con la tecnica del monte della seta e della canapa io ti porto 50 automobili erano tutte le scode soprattutto e io ti do in anticipo tot ho bisogno di 3 automobili che ho trovato 3 feste che me la comprano pronto gli dai i soldi ti dà le automobili la stessa cosa per le forme di grana e altri prodotti adesso qui è tutto questa è via larga via Guelfa scusate via Guelfa via Guelfa non c'è più nulla eccolo qui questo era il monte allora in particolare le merci stavano lì dentro eh qui avete questa è via Altabella no è la via via indipendenza stavano qui se voi passate cioè quelli che sono passati molte volte negli ultimi 40 anni avranno visto che cambia spesso perché chi compra chi affitta questa cosa qui affitta una roba che è molto più alto di questo quindi per riscaldare gli fa una follia quindi falliscono tutti appena arriva la bolletta ha cambiato molte volte e allora dice ma perché così alto perché dovevano i vapori del 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 prodotto greggio dovevano ecco e infine eccolo qui guardate un po' chi ce l'ha ecco vedete che è lo stesso dipinto di Giovanni di Francesco Spini fatto questa volta ad affresco là e dove siamo qua? Piazza Verdi e che monte era? il monte della cannabis ovviamente no era il monte della canapa era il monte della canapa vedete ecco adesso qui non c'è nessuno perché sono tutti lì pronti ecco era qui dentro il primo monte della canapa era lì dentro ecco eh? il teatro di fronte è lì qua là c'è via via Petronio via Petronio Vecchio no via via Petroni scusate via Petroni dove gli appartamenti costano come dieci briosi messi insieme perché non ci vuole gustare nessuno questa è una fotografia splendida perché sembra fatta boh non so ma neanche il giorno di feragosto per me hanno chiesto alla polizia di sgombrare per fare la foto perché ecco allora io penso di avervi detto tutto e anche troppo l'abbiamo fatta molto lunga e ci resterebbero ancora dire tantissime di cose tantissime di cose eccetera io spero spero di avere un'altra occasione per parlare di nuovo di finanza e di credito io ho visto che all'università insegnavo proprio questa roba qua non in monti di Bologna anche però anche perché mi piace mi piacerebbe insistere su certi argomenti che oggi vengono volgarizzati cioè vengono banalizzati eccetera invece sono cose molto serie quando l'economia non va e anche le banche non vanno la finanza la finanza non è un'invenzione di adesso poi come tutte le cose la pecunia come la finanza di oggi il denaro di una volta dipende da come viene speso da come viene gestito questo è il problema non è in sé per sé la banca che è un mostro o il finanziere che è un delinquente eccetera no non è questo quell'assegno che ho fatto vedere cos'è non è finanza quello oltre che è economia eh perché c'è uno dall'altra parte dica dica quanto è che abbiamo trascurato il 1492 ah no no ha ragione ah caro mio abbiamo trascurato tante cose perché effettivamente il commercio ed è con il 1492 è cambiato il mondo ragazzi è cambiato il mondo è cambiata le traiettorie dei mercati insomma i prodotti sono cambiati e quello è stato un momento epocale il 1492 il nostro Cristoforo Colombo che adesso dovrebbero impalare per delle cose sono cose dell'altro mondo sono ignoranti quelli che dicono queste cose qui che non sanno cos'è la storia pensano che sia un fumetto pensano che sia un tal show la storia no la storia è il frutto di azioni dell'uomo e l'uomo agisce nel suo contesto in cui vive non può sapere quello ci sarà fra 200 anni cerchiamo invece di difendere quello che 200 anni fa ci ha consentito di arrivare qua fra cui anche la sede del monte che non diventi il Conad grazie ringraziamo il dottor Poli e un attimo solo perché mi sono dimenticato di dirvi che nel programma emesso qualche mese fa era previsto per il 18 di questo mese una conferenza di Simone Maretti un evento di Simone Maretti mi dispiace molto dirvi che non ci sarà per indisponibilità del docente ci sarà però il 25 gennaio un'altra conferenza per la giornata della memoria la commemorazione di Siesopoli che è una colonia che salvò circa 800 bambini ebrei quindi vi raccomando venite che sarà molto interessante grazie mille grazie mille grazie mille